Il rischio dissesto c'è, siamo sul filo di lana, a dirlo è il primo cittadino di Scalea, Pasquale e Basile, che non nasconde le difficoltà finanziarie ed economiche del proprio comune. Stiamo cercando di scongiurarli in ogni modo, ha aggiunto Basile, perché le conseguenze sarebbero catastrofiche. Dall'altra, ha spiegato, il dissesto è un rischio che tutte le amministrazioni si trovano ad affrontare, basta una spesa improvvisa per mandare in tilt i conti degli enti e portarli al default. Appesare sulle casse del comune l'evasione tributaria, vero salasso per tutte le amministrazioni. Infine, il primo cittadino dell'ente altotirrenico ha voluto comunque precisare che l'ipotesi del dissesto per Scalea è molto lontana, visto che si verificherebbe qualora non si rispettassero determinati parametri e a dichiararlo sarebbe un organismo tecnico. Pertanto lo stesso ha invitato a non creare facili allarmismi cavalcando l'onda del populismo. Nella stessa abbarca anche il comune di Belvedere, dove l'allarme dissesto è partito da mesi dai banchi dell'opposizione e malcelato dall'aggiunta guidata da Enrico Granata. Anche in questo caso sotto accusa l'evasione tributaria, tant'è che lo stesso primo cittadino ha riferito che con il pagamento dei primi tributi che rimpingueranno le casse riusciremo ad uscire dalla crisi di liquidità che stiamo attraversando. Ma l'ottimismo di Granata non è supportato dai fatti. Al momento l'ente belvederese non può permettersi il pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali, che avanzano ancora a tre mensilità, e l'estinzione dell'altissimo debito contratto con la Sorical, che ha già provveduto a diminuire l'erogazione dell'acqua in alcune contrade di Belvedere. Insomma, il rischio di sesso non risparmia nessun comune, ma per il momento l'unico ente ad averlo dichiarato è stato quello di Fuscaldo, sul cui bilancio gravano debiti per ben 4 milioni.